Sette mandamenti e 42 famiglie mafiose nell'ambito di una mafia rimasta unitaria e con impostazione verticistica. Questa l'analisi sulla mafia della provincia di Agrigento della Direzione Investigativa Antimafia nell'ambito dell'ultima relazione semestrale presentata in Parlamento negli ultimi giorni. Agrigento, Burgio, Belice, Sant'Elisabetta, Cianciana, Canicattì e Palmo di Montechiaro. Questi i sette mandamenti con la famiglia mafiosa di Sciacca inserita a pieno titolo nel mandamento del Belice. Il contesto criminale della provincia di Agrigento, scrive la DIA, continua ad essere caratterizzato dalla presenza dominante di Cosa Nostra che monopolizza la gestione delle più remunerative attività illegali e condiziona ancora presentemente il contesto socio-economico, già duramente messo alla prova da un perdurante stato di crisi. Nonostante molteplici arresti, la mafia grigentina viene descritta ancora come solida e come legata sia ad attività criminali storiche sia ad attività delinquenziali, per così dire, più moderne. Un territorio che subisce tuttora l'influenza del boss latitante Matteo Messina Denaro, il cui potere e prestigio riesce ancora a far breccia, come testimoniano recenti inchieste ed arresti in particolar modo nel Belice e a Sambuca di Sicilia. Passano anche dalla provincia di Agrigento fiumi e fiumi di droga, soprattutto ascisce e cocaina, cosa che certifica sia il potenziale criminale di questo mercato sia purtroppo il numero sempre più cospicuo di consumatori. Un ruolo minore, ma comunque di rilievo, prosegue la relazione della DIA, viene occupato dalla Stidda, originariamente parte scissionista di Cosa Nostra, ma che oggi fa affari con quest'ultima. L'influenza della Stidda è presente soprattutto nei territori di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Naro, Favara, Canicattì, Campobello di Licata, Camastra, Bivona e Racalmuto. Non mancano i rischi di infiltrazione mafiosa in diversi settori, primi tra tutti agricoltura, agroalimentare, energie rinnovabili, rifiuti e politica, con le gestioni commissariali che proseguono per esempio nei comuni di Camastra e di San Biagio Platani. Inoltre la Prefettura ha emesso provvedimenti interdittivi antimafia per infiltrazioni mafiose nei confronti di imprese ubicate in diversi comuni della provincia e operanti nel settore edile ed agricolo. Anche nel semestre, infine, si sono registrate numerose intimidazioni tramite danneggiamento o minacce nei confronti di rappresentanti delle istituzioni.